Morsi alla testa, zampate in tutto il corpo, ferite profonde, soprattutto alle braccia. Vladimir Molinari, 45 anni di Cadine, è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. Ne avrà per un mese. Verso le 17 di ieri stava facendo jogging lungo una strada forestale, quando è stato improvvisamente aggredito da un orso. Ciò che si temeva potesse prima o poi accadere, ora è successo. Ovviamente da più parti si chiede che il progetto Life Ursus, teso al reinserimento dei plantigradi sulle montagne del Trentino, sia rivisto. Progetto che ovviamente interessa da vicino anche l'Alto Adige, dove l'avvistamento di orsi è stato ed è frequente. In Alto Adige abbiamo, durante l'anno, tra pochi individui fino a 5-6, di solito, negli ultimi anni. La coesistenza tra l'orso e l'uomo si sta facendo dunque piuttosto complicata, anche se siamo nel campo dei casi isolati e gli esperti dicono in sostanza che bisognerà fare l'abitudine a certi episodi, anche se è difficile accettarlo serenamente. Con un numero elevato di orsi, di 50 individui, è anche più probabile che abbiamo in futuro più volte una situazione critica come questa. Come noto, anche in Trentino Alto Adige è previsto un protocollo di intervento, nel caso in cui gli orsi manifestino una certa pericolosità, fino all'abbattimento. Con certe condizioni è previsto anche l'abbattimento o il prelievo, almeno, dell'orso, come anche in Svizzera. È successo anche con Danica, che era un'orsa problematica. La domanda che più frequentemente sorge tra la gente in queste ore è se il progetto di reinserimento dell'orso, varato dalla provincia di Trento, sia stato azzeccato o meno. Avere la natura come era una volta sicuramente difficile oggi giorno, però mai sbagliato. Dipende poi come si gestisce e in quanto si vuole anche dolorare un minimo di rischio.